Sulla Bosnia-Herzegovina abbiamo discusso di come possiamo mantenere la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità del Paese. Abbiamo esortato i leader politici ad assumere le loro responsabilità, a preservare le istituzioni, garantire un pieno ripristino delle istituzioni statali. In Europa non possiamo avere una Bosnia-Herzegovina divisa e chi si adopera in questa direzione si sbaglia di grosso perché sta privando il suo popolo di una prospettiva europea che con sé porta alla prosperità. I ministri hanno espresso il pieno sostegno rispetto al rappresentante presente in Bosnia-Herzegovina, alle forze dell'UE, nonché anche all'alto rappresentante Smith e anche rispetto agli sforzi di agire e relazione che siamo portati avanti, una mediazione tramite il servizio di reazione esterna, l'alto rappresentante e anche tramite la rappresentanza speciale presente sul posto. Tutti cercano di promuovere un dialogo politico in vista del raggiungimento di un accordo politico sulla riforma elettorale, riforma costituzionale, anche rispetto ad alcuni emendamenti costituzionali che potrebbero portare a migliorare il funzionamento della federazione. Siamo pronti a usare tutti gli strumenti a nostra disposizione se questo fosse necessario. Alla luce della situazione, questo include misure restrittive, misure finanziarie usate come ultima spiaggia e noi chiaramente preferiremmo un dialogo e un accordo tra le parti per garantire le riforme necessarie per arrivare alle prossime elezioni.